Enimor Cafè Caffetteria, cornetteria, stuzzicheria Inoltre sala biliardo e calcio scommesse L'Enimor Cafè si trova in via Fonte di Roccadaspide Siamo nei Castagnetti di Roccadaspide con Massimo Sabbetta, presidente del Forum Giovani della Cittadina Presidente, stanno procedendo i preparativi per la realizzazione della terza edizione della Festa della Castagna Ebbene sì, anche quest'anno ci riproviamo La Festa della Castagna è diventata un appuntamento per tutta la cittadinanza di Roccadaspide E che mette in campo tante energie È bello vedere l'entusiasmo dei giovani Ma prima di analizzare l'aspetto organizzativo della nostra festa Mi preme ringraziare l'amministrazione comunale di Roccadaspide Retta dal sindaco Girolo Mauricchio Il loro sostegno va al di là di ogni aspettativa Sono presenti in tutto, ci danno una mano, ci sostengono E in qualsiasi difficoltà abbiamo sempre un interlocutore pronto ad ascoltarci Devo anche ringraziare l'associazione Arcobaleno Retta dal presidente Giovanni Giuliano Che con la loro collaborazione hanno reso ancora più preziosa la possibilità di creare un evento in questa cittadina Quali saranno le pietanze culinarie preparate per l'occasione? Ci saranno molte pietanze a base di castagne Ovviamente ci saranno le castagne, le cardarroste innanzitutto che anche quest'anno verranno gentilmente omaggiate dai produttori castanicoli Dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale che si è fatta portavoce di questa ovviamente incompensa Ed ha avuto un'ottima risposta da parte dei produttori castanicoli locali I quali non ci hanno fatto per verità mai mancare il loro sostegno I piatti variano dagli antipasti fino al dolce a base di castagne Chi è stato già negli anni precedenti ha avuto il piacere di poter assaggiare queste prelibatezze culinari Siamo contenti perché abbiamo avuto anche quest'anno una buona risposta da parte degli organizzatori delle varie taverne Che ripeto saranno sempre collocate e posizionate lungo le vie del centro storico di Roccadaspide Ed all'interno del castello Filomarino Questo percorso gastronomico si snoderà dalla piazza 20 settembre Ed arriverà fino alla chiesa della nostra patrona Santa Sinforosa Per quanto riguarda la preparazione dei piatti avremo anche quest'anno delle novità Che non anticipo perché siamo in fase di definizione anche del menù come del programma E nei prossimi giorni sarà reso noto ovviamente ogni aspetto organizzativo di questa festa Anche l'offerta artistica non mancherà? Sì, sarà un connubio tra arte e gastronomia È sicuramente un percorso che ponga in risalto le nostre bellezze architettoniche Che fanno invidia a tanti e tanti centri ovviamente italiani E che forse hanno la possibilità di essere conosciuti perché meglio posizionati geograficamente Oppure meglio pubblicizzati E quindi noi vorremmo anche in questo senso dare un risalto a quelle che sono le nostre particolarità Le nostre peculiarità non soltanto a livello enogastronomico ma anche a livello ovviamente paesaggistico Perché come vediamo siamo nei nostri castagneti dove l'area è bella, è pulita E dove ci sono delle piante ovviamente secolari che fanno da contorno a questa suggestiva cornice Ricordiamo le date precise della manifestazione Questa festa inizierà il 31 di ottobre del 2014 nelle ore serali E si concluderà il 2 novembre 2014 nelle ore serali Ci sarà un vasto programma artistico che vedrà coinvolti molti giovani e molti gruppi locali Tendendo sempre ad essere ovviamente attenti a quelle che sono le nostre caratteristiche E peculiarità anche diciamo come paese perché abbiamo tanti gruppi emergenti Tanti artisti che sono apprezzati anche nei paesi limitrofi e non solo Siamo nei castagneti di Roccadaspide con il sindaco della cittadina Giroda Mauricchio Sindaco, anche per quest'anno si riuscirà ad organizzare la terza festa della castagna Nonostante la forte assenza di prodotto di questi ultimi anni Forte assenza, diciamo che c'è stato un galo per il passato Però da quando mi risulta c'è una consistente ripresa quest'anno Noi come Comune abbiamo sostenuto e sosteniamo la lotta al cinipide Abbiamo investito fondi comunali proprio per lanciare questi famosi antagonisti Cosiddetti antagonisti Quindi penso che la ripresa ci sarà fra alcuni anni come è successo nelle altre regioni d'Italia Per quanto riguarda Roccadaspide noi siamo il primo Comune d'Italia per la raccolta delle castagne Inoltre abbiamo il famoso marrone di Roccadaspide con il marchio IGP Per la festa è una tradizione che va consolidata, va sostenuta E noi come amministrazione comunale siamo vicini a questa associazione A questa associazione di giovani che fanno di tutto per fare questa manifestazione che è molto importante È diventata una manifestazione molto ambita dove per la prima volta ci sono delle prenotazioni di americani e tedeschi Per venire qui a Roccadaspide a festeggiare con noi